Cosa ne pensa di quello che sta facendo Trump, visto che Grillo all'inizio si era espresso favorevolmente nei suoi confronti, anzi Fico si era dissociato dalle parole un po' di Grillo? Cioè quel provvedimento di mettere al bando sette paesi islamici, tra l'altro di persone che vivono, hanno la residenza, hanno la green card dentro gli Stati Uniti, lei lo condivide oppure no? Posso leggere una cosa? Tutti gli americani, non solo quelli negli stati più coinvolti dal fenomeno, sono giustamente infastiditi dal gran numero di clandestini che entrano nel nostro paese, le loro casi, i loro posti di lavoro sarebbero di cittadini americani o di immigrati legalmente presenti, i servizi pubblici che usano comportano per i nostri contribuenti il pagamento di tasse, questo è il motivo per cui la nostra amministrazione sta agendo in modo così aggressivo per mettere in sicurezza le frontiere, deportando il doppio degli immigrati clandestini rispetto a qualsiasi altra amministrazione. Lei è d'accordo con queste parole? L'ha detto Clinton al congresso.